presenza di un provvedimento non dignitoso e ravverciato, scegliamo di portare in porto fino al dicembre del 2014 questa nobile istituzione che è stata ed è la provincia da cui giustamente si pretenderà fino all'ultimo giorno l'erogazione dei servizi che dipendono dalle competenze che la provincia ha. Altre due cose velocissime, è già pronto un invito che manderò oggi un invito di convocazione per i sindaci perché pur essendo loro coinvolti nel passaggio per la città metropolitana, passaggio per il quale invece come vedete dalla legge la provincia non ha nessuna funzione, il passaggio non prevede nessun compito preciso della provincia, noi vorremmo fare un incontro prestissimo la settimana prossima con i sindaci proprio per informarli e fare con loro un confronto responsabile per riuscire a raccontare qual è la situazione della provincia e riuscire a garantire fino al 31 dicembre lo svolgimento del lavoro più sereno possibile insieme, ci sono delle questioni elevate sul tavolo da gestire nella maniera più responsabile possibile.